Se gentilmente prendete posto possiamo partire. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Fate i bravi che se no la Paris partorisce qui. Quanto ti manca? 10 giorni. L'onorevole Paris è responsabile enti locali e sta per partorire. Quindi facciamo una conferenza. Però ragazzi noi vi lasciamo qui se fate i bravi. Se no Guerini si dimentica. Ragazzi se ci fate fare la conferenza stampa la facciamo.